Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Otto giorni dopo la Pasqua anche i cristiani sono di nuovo in chiesa nel giorno del Signore, proprio come l'Apostolo Giovanni nell'Apocalisse. Dopo aver vissuto la Settimana Santa abbiamo ripreso la vita in famiglia, il lavoro, la scuola. Che cosa è rimasto della Pasqua? Ciò che abbiamo celebrato lo verifichiamo proprio nella vita quotidiana che prova la nostra fede in Gesù risorto. Come si può credere nella vittoria della vita sulla morte quando i più pensano solo a se stessi? Come si può credere quando la stanchezza, la paura e la sfiducia prevalgono? Otto giorni dopo la prima apparizione del risorto anche Tommaso era in casa con i discepoli. Tommaso era chiamato anche Didimo, che in greco significa gemello. Il gemello di Tommaso è ciascuno di noi. Lui voleva vedere e toccare quel Gesù che aveva visto inchiodato alla croce. A volte forse pensiamo a che serva aver fede se credere nel Signore risorto non cambia le nostre vite. Il giorno dopo il sabato, di mattina presto, Maria era andata al sepolcro di Gesù e lo aveva scoperto vuoto. Anche Pietro e Giovanni lo avevano constatato, i discepoli sono ancora impauriti e delusi. Gesù si fa presente in modo sorprendente e li saluta. Li riconosce di nuovo come amici, anche se lo hanno abbandonato nella sua passione. Dopo che si è fatto riconoscere con i segni della morte, invia i suoi discepoli ad annunciare agli altri la sua risurrezione e nel giorno del Signore, cioè la domenica, dona loro il suo spirito, lo Spirito Santo, affinché possano perdonare i peccati, portando la vita del risorto dove c'è morte. Ma in quel momento Tommaso non c'è. Tommaso è diventato il simbolo dello scettico, di chi crede solo a ciò che vede. Eppure, chi fa di diverso dagli altri discepoli? Loro hanno creduto, ma prima hanno visto. Anche lui vuole vedere. Tommaso non è migliore né peggiore degli altri, ma incarna la difficoltà di credere che vive ciascuno di noi e fa sempre parte della vera fede. Tommaso incarna il nostro bisogno di prove evidenti. È così serio il suo dramma che Gesù si mostra ai suoi discepoli una seconda volta, otto giorni dopo, sempre nel giorno del Signore, e si dedica interamente a Tommaso, come il pastore che si preoccupa della pecora smarrita. Gesù non disprezza il suo bisogno di toccare e gli fa vedere le mani e il costato. Ma ciò che porta Tommaso alla fede è vedere che Gesù sta lì per lui, che lo ama così com'è. Però Gesù non si è reso presente tra i suoi solo per Tommaso. Lui si prende cura anche di tutti quelli che vengono dopo gli apostoli, per i quali la fede nasce solo dall'ascolto dei primi testimoni oculari. È per loro che Gesù dice, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. La fede nella risurrezione non dipende dal vedere e toccare Gesù, ma è credere alla testimonianza di coloro che lo hanno incontrato e sono passati dall'incredulità alla fiducia. Grazie a tutti.